Allora Renato, come d'abitudine ricominciamo un po' con quelli che sono i fatti clou della settimana. Vediamo un po' cosa è successo. Sì, diciamo che il fatto più importante è stato questo terribile attentato terroristico che c'è stato in Russia, a Mosca. Come sempre in questi casi le dinamiche non divengono subito chiare. Comunque sembra sempre più probabile un coinvolgimento dell'Ucraina nell'organizzazione dell'attentato, a meno per quello che riguarda il finanziamento dell'attentato e presumibilmente anche la fuga dei terroristi che hanno compiuto l'attentato. Del resto, come sappiamo, quelli che vengono presentati in Occidente come i combattenti della libertà ucraini, oltre che con elementi dell'estrema destra, anche terrorista, sia nazionale che internazionale, combattono da sempre insieme ai terroristi islamici ceceni, che sono stati autori già di spaventosi attentati in Russia. Presumibilmente in un modo o in un altro, come la Russia stessa sta denunciando, anche gli Stati Uniti d'America e la Gran Bretagna sembrano essere implicati in questo attentato. Abbiamo già visto nell'attentato immediatamente precedente quello che ha colpito pesantemente l'Iran, come appunto l'Isis, che poi ha rivendicato questi attentati, agisca sempre più come un proxy dell'imperialismo occidentale, tant'è che da quando è iniziato questo spaventoso genocidio contro i palestinesi, appunto lo Stato Islamico, l'Isis, ha fatto soltanto due attentati, ma due attentati spaventosi, che hanno colpito appunto da una parte l'Iran, che è l'unico paese del mondo che sostiene e combatte contro il genocidio in Palestina, e adesso ha colpito la Russia, che è il principale nemico dell'imperialismo occidentale che sta portando avanti questo genocidio. Quindi è sempre più evidente che lo Stato Islamico, che è stato, ricordiamo, formato sostanzialmente nell'Iraq, occupato dagli Stati Uniti, il suo fondatore era in carcere, in una carcere statunitense, è stato liberato e sostanzialmente anche finanziato a questo scopo, e quindi è sempre più un proxy dell'imperialismo occidentale. Potremmo dire che c'è lo stesso rapporto che c'è tra Iran e Hamas, naturalmente sono due realtà diverse, hanno anche impostazioni molto diverse, storicamente ci sono stati pure dei momenti in cui si sono combattuti, per esempio in Siria, ma è chiaro che adesso c'è un'alleanza perché appunto entrambi si contrappongono all'imperialismo occidentale, in particolare israeliano. E lo stesso discorso vale appunto tra lo Stato Islamico e l'imperialismo occidentale, pure qui appunto spesso hanno collaborato, ci sono stati dei momenti in cui si sono anche scontrati, ma adesso insomma la collaborazione sembra piuttosto chiara. Inoltre diciamo che oltre a questo, che già è un passaggio purtroppo importante nell'escalation verso la guerra, come sappiamo appunto la prima guerra mondiale è scoppiata proprio a seguito di un attentato terroristico, e purtroppo come sappiamo spesso le guerre iniziano così, perché hanno semplicemente bisogno di un pretesto. Comunque al di là di questo l'escalation è sempre più pericolosa, ad esempio proprio questa settimana Putin ha detto chiaramente che se gli attacchi degli aerei F-16 contro la Russia, che si stanno preparando e sono sempre più imminenti, verranno portati avanti da basi al di fuori del territorio dell'Ucraina, come è successo per esempio nell'aggressione alla Federazione di Jugoslavia, di cui proprio adesso ricorreva l'anniversario, oppure che ne so l'aggressione alla Libia, eccetera, la Russia ha detto chiaramente che se questi attacchi dovessero venire dal di fuori del territorio dell'Ucraina, i paesi da cui partiranno gli F-16 diventeranno appunto, entreranno apertamente in guerra contro la Russia e quindi diventeranno degli obiettivi militari russi, il che appunto lascia immaginare che il rischio, diciamo, di una guerra aperta tra la Russia e la Nato, che potrebbe portare alla distruzione dell'intera Europa, è sempre più purtroppo imminente, anche perché nel frattempo la Polonia, proprio oggi sentiamo le notizie, ha mobilitato l'esercito, si è già detta pronta ad abbattere i razzi russi che si avvicineranno al suo territorio e sempre appunto nel corso della settimana l'Unione Europea si è riunita e si prepara ormai compattamente alla guerra, non ci sono sostanzialmente voci particolarmente dissonanti e anzi ha lanciato una vera e propria economia di guerra, quindi tutta l'economia europea nei prossimi anni sarà finalizzata proprio a questo obiettivo e come tutte le merci appunto anche le armi devono essere consumate, a un certo punto non è che ci si riarma e poi la guerra non c'è, il riarmo porta necessariamente alla guerra, naturalmente l'escalation non viene certo dalla Russia, perché come è emerso pure durante questa settimana, gli Stati Uniti hanno speso oltre dieci volte quello che ha speso la Russia nel riarmo, ma appunto questo riarmo che ormai si è globalizzato perché quando si riarma l'imperialismo statunitense, si riarma l'imperialismo europeo, a quel punto anche la Russia, la Repubblica Cinesi e gli altri paesi debbano riarmarsi e questo riarmo non può che scatenare, visto che è un riarmo che avviene su scala mondiale, non può che scatenare delle guerre sempre più globali, appunto come ricorda giustamente lo storico Barbero, le guerre, pure le guerre mondiali non sono iniziate perché erano state programmate per iniziare in quel modo, c'è stato un riarmo che andava avanti da anni e a un certo punto appunto bastava una scintilla per incendiare una prateria e per far sì che senza una volontà esplicita ci fosse un processo a catena per cui da un semplice attentato, per esempio nel caso della prima guerra mondiale o dell'invasione della Polonia nel caso della seconda guerra mondiale, appunto è iniziato un processo a catena e chi ha fatto quelle azioni naturalmente non immaginava che da lì sarebbe iniziata la guerra, era questo diciamo il grande rischio che ormai corriamo sempre di più, cioè che basti un altro incidente, un altro esempio attentato terroristico come quello che abbiamo visto per dar fuoco alle polveri. Inoltre, come ha detto Meloni, presidente del Consiglio italiano, criticando appunto i pacifisti, criticando il Papa, ha sostenuto che l'unico modo per impedire la guerra è la deterrenza, bisogna appunto, se questo è vero, bisogna evitare quindi a tutti i costi lo scontro contro la Russia che proprio per deterrenza e per evitare guerre in questi anni, oltre ad aver ereditato l'arsenale atomico della Russia, si è dotato comunque appunto come strumento di deterrenza di un micidiale arsenale nucleare che è in grado di distruggere completamente il continente europeo. Ci sono appunto, parlavamo oggi con il professor Dorsi, i russi hanno creato per esempio dei missili che in un minuto possono distruggere completamente la città di Berlino, questo è il rischio insomma che corriamo sempre più seriamente, anche perché questa guerra distruggerebbe innanzitutto l'Europa, e quindi pure per questo gli Stati Uniti sono ancora più spericolati nelle politiche militari o la Francia è più spericolata perché naturalmente il primo paese che verrebbe distrutto insieme all'Ucraina e alla Russia sarebbe proprio la Germania. Per quello che riguarda il panorama italiano rispetto a quello che sta succedendo, oltre a queste dichiarazioni apertamente guerra fondaie del governo di destra radicale, il problema è che anche l'opposizione in teoria di centro-sinistra sostanzialmente non si distanzia in maniera chiara dalle politiche guerra fondaie dal governo, tanto che ad esempio appunto durante questi ultimi giorni nel Partito Democratico è iniziata una polemica perché appunto Schlein ha candidato un giornalista cattolico del giornale della Conferenza dei Vescovi Avvenire, il quale ha detto una cosa piuttosto scontata per un cattolico che è contrario all'invio delle armi in Ucraina e aprite cielo dal PD che dovrebbe essere il principale partito d'opposizione, è iniziata una vera e propria sommossa per cercare di eliminare appunto questo candidato che appunto si è deciso di ospitare nelle liste del PD solo perché mette in discussione appunto il fatto che l'Italia deve essere in prima linea in questa escalation verso la terza guerra mondiale, anzi la quarta perché la terza è stata già la guerra fredda. Nel frattempo l'altra diciamo notizia importante di questa settimana è che per la prima volta il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è riuscito diciamo a condannare, nonostante tutto il tempo che è passato, quello che sta succedendo a Gaza e a chiedere per la prima volta un cessato del fuoco, anche se il cessato del fuoco è comunque legato in qualche modo alla questione della liberazione degli ostaggi eccetera eccetera, tutte diciamo clausole che hanno voluto introdurre gli Stati Uniti, che però appunto di fronte a quello che sta succedendo non hanno più potuto come hanno fatto fino adesso opporre diciamo il loro presunto diritto di veto che fino adesso aveva bloccato tutte le risoluzioni delle Nazioni Unite, adesso ormai il genocidio in diretta è così dirompente che gli Stati Uniti se continuavano da soli a opporsi alle Nazioni Unite avrebbero perso qualsiasi credibilità a livello internazionale e poi sicuramente Biden che già così sicuramente o quasi sicuramente perderà le elezioni appunto non potevano e quindi che cosa hanno fatto? si sono astenuti però appunto hanno subito appena è passata la risoluzione hanno subito insistito sul fatto che non si sa perché questa risoluzione comunque non sarebbe vincolante e quindi appunto come purtroppo abbiamo visto non ha avuto nessun effetto su quello che sta succedendo in Palestina, infatti sono continuati i bombardamenti, ha continuato il genocidio e soprattutto sempre più migliaia di camion con aiuti che vengono da tutto il mondo sono bloccati ai confini, Israele non consente agli aiuti internazionali di raggiungere il paese e c'è una vera e propria carestia in atto, muoiono di fame bambini, muoiono di fame neonati, muoiono di fame ormai pure adulti ma appunto gli alleati di Israele, gli Stati Uniti ma anche il Qatar, anche l'Egitto, anche la Giordania pur di non costringere Israele a far passare i camion bloccati ai confini mentre le persone muoiono letteralmente di fame hanno pensato bene appunto di bombardare con i pacchi i palestinesi, hanno ucciso già diversi palestinesi hanno distrutto le infrastrutture degli ospedali, i pannelli solari che sono decisivi per la sopravvivenza dei palestinesi e anche durante questa settimana hanno lanciato male gli aiuti, questi sono finiti in mare, i palestinesi morendo di fame si sono gettati e sono affogati a decine. Nel frattempo la cosa forse più allucinante è che continua questo gioco delle parti sui media occidentali, a partire da quelli italiani che sono tra i peggiori, per cui appunto quello che ci vogliono far apparire è che l'unica alternativa al genocidio portata avanti da Israele sarebbero gli Stati Uniti d'America, per cui per esempio tutta la settimana non hanno fatto altro che ripetere che per la prima volta appunto il Consiglio di Sicurezza aveva chiesto il cessato il fuoco grazie all'astenzione degli Stati Uniti, cioè non grazie a tutti gli altri paesi che per l'ennesima volta hanno presentato la cosa, ma piuttosto sarebbe appunto grazie al fatto che gli Stati Uniti sono stati così buoni, così umani da astenersi, salvo poi dire subito dopo che comunque la presa di posizione non ha nessun valore, non ha nessun significato vincolante. Quindi diciamo quelli che sono i principali supporter e anche responsabili del genocidio, gli Stati Uniti vogliono appunto, i medi occidentali ci li fanno apparire come quelli che sarebbero diciamo l'opposizione che vorrebbe la pace diciamo rispetto a Israele. D'altra parte appunto anche questa settimana ci ha confermato quello che abbiamo detto dall'inizio che appunto il terrorismo come sappiamo anche storicamente e anche in questo caso si è rivelato essere una tattica militare perdente perché appunto non c'è stato come abbiamo visto anche durante questa settimana nessuna lotta di massa contro il genocidio israeliano per cui non c'è assolutamente una guerra pure quando si parla continuamente della guerra che ci sarebbe in Palestina, in Israele come dice pure il Papa è assolutamente falso, non c'è nessuna guerra qui c'è soltanto un genocidio unilaterale di Israele che dietro il quale ci sta l'imperialismo perché appunto il genocidio va avanti soltanto perché gli Stati Uniti, la Germania e gli altri paesi continuano a dargli le armi, continuano a dargli le munizioni e continuano a dargli soprattutto la copertura politica. Tanto che questa è l'altra notizia interessante di questa settimana che in Nicaragua, cioè uno dei paesi dell'America Latina dove sono diciamo al governo forze antimperialiste hanno denunciato la Germania di fronte al Tribunale delle Nazioni Unite proprio perché sta violando apertamente il genocidio perché ancora più degli Stati Uniti è acriticamente a sostegno sta armando in tutti i modi e perseguita addirittura gli israeliani antisionisti, appunto il regime tedesco li bolla ormai e li boicotta come antisemiti mentre appunto naturalmente i veri antisemiti quelli della destra che in Germania sono sempre più forti non hanno nessun problema, non vengono in nessun modo perseguitati questo per dire come appunto utilizzino e strumentalizzino nel modo più bieco persino l'antisemitismo che purtroppo invece è una questione molto importante infine altre notizie importanti della settimana che hanno avuto grandi spazi nei media in Italia proprio in questi ultimi giorni c'è la vicenda Salis cioè di questa antifascista italiana che è stata arrestata in Ungheria perché si opponeva alla marcia dei nazisti di tutta Europa che celebravano in Ungheria le SS e che appunto è stata ancora una volta portata in tribunale con le catene, alle mani e ai piedi, con il collare neanche fosse un cane e nonostante appunto che ci fossero avvocati e anche uomini politici della sinistra italiana che appunto hanno fatto tutto quello che era possibile per far ottenere almeno gli arresti domiciliari in Ungheria questa insegnante italiana è accusata di aver preso parte all'aggressione a un nazista ungherese che peraltro non ha neanche mai denunciato quello che è avvenuto quindi non c'è nessuna denuncia della vittima che è stata curata in pronto soccorso e ha avuto diciamo una prognosi lieve di cinque giorni tanto che un altro italiano che ha preso parte a questa cosa è stato appunto processato in Italia ma è stato subito non è mai stato in carcere proprio perché appunto si tratta di un crimine molto leggero insomma perché non è successo niente di grave niente di irreparabile e invece appunto il governo ungherese di destra guidato da Orban ha invece diciamo voluto dare la dimostrazione della sua linea ultransista che non tollera nessuna forma di antinazismo di antifascismo e quindi appunto nonostante che ci fossero tutte le condizioni per concedere dopo ben 13 mesi di carcere durissimo gli arresti domiciliari in Ungheria si è rifiutato di farlo e il governo italiano il capo presidente del consiglio e il suo partito che è il partito di maggioranza invece di protestare stanno trattando a Cipro per fare entrare proprio il partito di Orban c'è questo partito dell'estrema destra ungherese appunto nel gruppo europeo di cui appunto fa parte Fratelli d'Italia a dimostrazione che appunto il fascismo non a caso è nato in Italia e in Ungheria e oggi appunto gli eredi del fascismo sono a potere sostanzialmente sia in Italia che in Ungheria e vanno come al solito a braccetto infine ultimissima notizia significativa di questa settimana sono state le elezioni in Senegal qui appunto c'era forse l'ultimo in quest'area dell'Africa nell'Africa occidentale c'era l'ultimo governo filo imperialista stretto diciamo alleato dell'imperialismo francese dell'imperialismo europeo dell'imperialismo occidentale che aveva fatto di tutto per mantenere il potere rinviando continuamente le elezioni facendo arrestare il principale oppositore facendo sciogliere il principale partito d'opposizione nonostante tutto questo alla fine sono stati costretti dalla mobilitazione popolare a concedere tra virgolette le elezioni e nonostante che avessero sciolto l'unico reale partito d'opposizione avessero fatto arrestare e avessero impedito la candidatura del principale esponente dell'opposizione che era estremamente popolare soprattutto nelle giovani generazioni proprio perché ha una posizione al contrario del governo anti-imperialista il vice di questo partito disciolto ha vinto nettamente le elezioni e con un programma chiaramente anti-imperialista di rottura di questo cordone ombelicale con la Francia con il franco CFA che è appunto la moneta che la Francia ha imposto in una logica neocoloniale a questi paesi che sono state colonie francesi e questo appunto ha dimostrazione che almeno in Africa la capacità di egemonia dell'imperialismo occidentale è sempre più debole è sempre più in difficoltà grazie e alla prossima grazie Renato alla prossima